Antimafia e legalità come risposta alla criminalità organizzata sono i temi affrontati oggi in prefettura a Pesaro insieme al vice ministro dell'interno Filippo Bubbico e al commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura il prefetto Santi Giuffre. All'evento hanno preso parte oltre alle massime autorità provinciali e ai vertici delle forze di polizia una folta rappresentanza degli studenti degli istituti superiori della provincia ai quali è stata principalmente rivolta l'iniziativa. È possibile e doveroso educare i giovani su questo fronte ha detto il senatore Bubbico e bisogna far sì che lo sviluppo economico così come la capacità di realizzare gli obiettivi di ciascun individuo possano avvenire in un contesto di legalità e di rispetto delle regole. La legalità contribuisce in maniera significativa a dare qualità alla vita, alla capacità di sviluppare relazioni e anche di realizzare obiettivi importanti. Tutte le volte che le vittime hanno denunciato non solo hanno visto ristorato i danni che hanno subito ma sono stati costantemente assistiti dallo Stato. E la paura bisogna coltivarla quando non ci si rivolge alle forze dell'ordine, non ci si rivolge alla magistratura perché accettare il dominio criminale significa vivere in una condizione di schiavitù, di mancanza di libertà e di perdita della dignità. A portare il suo saluto è stato anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha parlato dell'esigenza di una nuova cultura della legalità anche grazie agli incontri con gli studenti. Non ci sono più isole felici ha detto Ricci quindi occorre tenere alta la guardia. D'altronde la prevenzione rientra fra le attività quotidiane delle forze dell'ordine con il controllo del territorio anche se come specifica il prefetto Luigi Pizzi per il momento in provincia non è stata segnalata la presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso. La prevenzione di questi fenomeni purtroppo radicati soprattutto in certe aree del nostro paese non può prescindere dalla creazione di una cultura della legalità e da un atteggiamento refrattario nei confronti di tutti quei comportamenti che costituiscono l'humus poi perché nascano questi fenomeni. E quindi i giovani sono esattamente i depositari di questa cultura contraria opposta e di ostacolo al radicarsi di fenomeni mafiosi.